Sì, è un'altra parte, è un'altra parte, credo che ci va a andare un'altra parte, si è lanciato la panna, anzi, non è di più? Sembra l'altra parte, è un'altra parte, è un'altra parte, è un'altra parte, ghiamosci la mano, non è di più? Grazie a tutti. Grazie a tutti.